Ciao a tutti amici di Marina Romea Tennis, questa sera vediamo cosa mi ha spedito Dunlop, appena arrivato il pacco, apriamolo insieme, è una sorpresa, quindi unboxing reale, vediamo insieme cosa ci sarà dentro, vediamolo, siete curiosi? Vediamo un attimino, regi avvicinati e facciamo questo primo piano, vediamo una racchetta, chiaramente la forma del pacco era molto indicativa, apriamo, vediamo che modello, quindi modello 2022 ed ecco la SX300 Tour, quindi la versione Pro un pochino più agonistica della versione 300 grammi, prossimamente la recensione della racchetta sul mio canale YouTube e su Facebook, alla prossima Roberto!